Ciao amici di All4Shooters, abbiamo ricevuto dalla Paganini Torino una carabina Remington 700 Magpul HB in calibro 308 Winchester. La Remington 700 Magpul HB è una compatta carabina bolt action in calibro 308 Winchester con caricatore rimovibile. L'azione è montata su una calciatura Magpul Hunter regolabile con bedding in alluminio di colore nero. Con appositi spaziatori e poggia guancia è possibile personalizzare la calciatura sulle proprie misure. La canna pesante e flottante in acciaio a carbonio è lungo 61 cm, sono 22 pollici. Brunita con finitura cera coat nera e presenta la famosa rigatura 5R a 5 righe destrorse con passo da 1 a 10, usata ad esempio nei fucili da sniper statunitensi M24. La canna involata presenta una filettatura per il montaggio di accessori, spegni fiamma, treni di bocca e ove consentito suppressori di suono protetta da un anello. Il gruppo di scattole X-Mark Pro adjustable regolabile esternamente, la manetta atturatore maggiorata per una migliore ergonomia. Il caricatore rimovibile contiene 5 cartucce ed è realizzato in polimeri. La carabina a secco pesa mediamente 4,2 kg. Abbiamo montato basette e anelli da 30 mm Leupold e abbiamo completato la Remington 700 Magpul con un cannocchiale Leupold VX3i LRP con reticolo Timboa. Non resta che provarla sul campo di tiro. Per la prova e le rosate seguite il link all'articolo. Grazie. Grazie.